Buongiorno da Ilenia, Morgana e Mirko. Eccoci qua. Allora, oggi apriremo, udite udite, 4 blind bag. Allora, abbiamo già aperto i cuccioli, li avevamo già aperti, ma la nostra nonna, la mia mamma, è andata in edicola e ha fatto un po' di scorta, quindi noi ne approfittiamo per aprire. Apriremo quindi due confezioni di coccoli Trudy e una confezione di Kitty Little Friend e il castello, quello delle principesse, immagino i castelli. Avevamo aperto praticamente tutto, forse questo qua non l'ho mai aperto. Può essere. Allora, io direi, Morgana apri queste due e io e Mirko apriamo queste due. Vuoi iniziare tu? Sì. Allora, aspetta che facciamo vedere prima un attimo. Questa qua penso che comunque era già uscita. Kitty Little Friends, 10 gattini vellutati, dolcissimi, morbidi, gioca insieme ai tuoi Kitty Little Friends. E costo 2,90 euro. Nuova edizione. Nuova edizione. Sì, perché vedi che c'è sotto un prezzo. Probabilmente sono quelle bustine che le ritirano. E poi le rimettono. Vabbè, ma noi ci piacciono. Vai, Morgana. Apertura facilitata. Sì, basta che non mi fai capire il telefono. Buon, dentro cosa troviamo? Un libretto. Ok, la checklist con... Ecco qua. Allora, questi qua sono tutti i piccinini che si possono trovare. Allora, Pepe, Pongo, Leo, Dea, Chloe, Nana, Diva, Diva. No, vabbè, io vorrei trovare Nana. Romeo, Lulu, Sofì. Sofì. Sofia. Sofia. No, Sofì. Sofia. Ok. Che carina. Tu che vorresti trovare? Questo mi piace. Nana. Te e Mirko chi vorresti trovare? Dai, scegliene una. Sì. Sei indeciso. No. Non lo sai? No. Allora è deciso, dai. Guarda sotto. Pepe, hai già visto dentro. Eh, vabbè, ma hai già visto dentro. Non vale, dai. Pepe. C'è dentro Pepe? Vediamo. Già che non è Pepe. No. Infatti, è Leo, quello che volevo. È Leo, è certo. È Leo. Vediamo, Morgana, fallo vedere. Che bello, Leo. Che carino. Lì dove c'è qualche altro? No. Aspetta, Morgana, perché sono? Ok, riusciamo a fargli mettere un attimino a fuoco. È un gattino tigrato e vellutato, bellissimo. Ha gli occhi azzurri. Bello, con gli occhi azzurri. Ci piace, direi. Poi dopo, questo qua costa 3,90 euro. Allora, va qua. Aspetta, costa 3,90 euro. Sì, beh, noi abbiamo già aperto i giochi preziosi. E dentro si possono trovare una, due, tre, quattro, cinque principesse. chi è bella, cenerentola, aria, che ne abbiamo trovato. Aurora e biancaneve. Allora, il prezzo l'abbiamo detto, della giochi preziosi. Vai, Morgana. Grazie. Doppio. Ma va, stai scherzando? Doppio. No. Eh, ma nonna. Eh, vabbè. Vabbè, dai. Guardi, c'è. Eh, non c'è. Non c'è neanche la perdita facilitata. No. La uso io, prima che... Non faccio così. Ma. No. Con questo forbicione mega, sai com'è. Vai. Uffa. Oh, ma il doppione noi ultimamente non ce lo facciamo mai scappare. Questa è Ariel. Ok, ve la facciamo vedere velocemente, perché tanto, per chi ci segue, l'aveva già vista. Meno male che, vabbè, che fortuna. Ok, allora, Mirko. Eh sì. Magari, Morgana, se mi lasci il telefono dov'è. Allora, facciamo vedere questo. Noi questo qua abbiamo già aperto due, mi sembra. Sì, due. Sul canale. Non mi ricordo assolutamente chi avevamo trovato. Comunque, costano tre euro e cinquanta. Cinquanta, sì. Sono della D'Agostini. Sì, della D'Agostini, ecco qua. E si possono trovare questi qua, che sono dodici. E ce ne sono due che mi danno al buio. Magici. C'è Marcus, Aurelia, Amelie, Joe, Logan, Gastone, Lucilla, Andrew, Igor, Ambrogio, Patty e Fred. Speriamo che non è Fred. Allora. Un canale è Fred. Questa la sua borsa è un bauletto azzurro. Questa è la sua storia. E il suo miglior amico è Ambrogio. Che mi sembra che noi Ambrogio l'avevamo trovato, ne? Questa, se la volete leggere, è la sua storia. Questo è il suo disegnino troppo carino. Carino. Questi qua, ecco. la storia. Posso sentire? Dopo la mamma te la legge. Ok. Dai, tira fuori che vediamo un attimino cosa abbiamo trovato. Allora. Abrogio. Ecco, si chiama? Fred. Fred. Allora, aspetta che ci vuole sempre la forbice. Faccio io. E come Scooby-Doo? Sì. È Fred. È un pezzo ora. Allora, questo qua è il cagnolino nella borsina. È il mio, è il mio. E dopo vediamo cosa troviamo. Oh, che bello. Fred. Che carino. Ti piace, Mirko? Eh sì. Posso? Questo è il prendi? È il mio Fred. Questo è il cagnolino e questa è la sua borsetta a bauletto. Oh, posso? Aspetta che la facciamo vedere. È mio. Con la scritta Trudy. Trudy. Carinissima. Ok. Passiamo. Aspetta che intanto noi spostiamo la tua perché siamo un po' tutti stretti. Eh sì. Ok. Allora. Apriamo l'ultima. Ultima e poi. Oh. Quelli che si illuminano al buio. Chi sono? Aurelia e a me. No. Morgana fanno con la testa. Oh. E no, a giallo il coso. È così. Oh. Chi è? Andrew. Andrew. Il bassotto. Andrew. Allora. Andrew ha la borsa che è una tracolla gialla. Questa è la storia. Andrew. Quando magari vuole mettere a fuoco, tesoro. Andrew. Ok. E il suo migliore amico è Logan, il bulldog. Eh che carino. Che carino. Allora, vediamo. Ma dove è la testa? È dentro. È dentro nella borsa. Amore. Posso andare? Eccoci qua. No. Questo. Non ci credo. Con la tracollina. Si apre. E dentro abbiamo il nostro bel cagnolino. Oh. Che muso. Eccolo qua. Ciao. Che bello. hanno il collarino con la scritta Trudy. Questo è l'altro cagnolino. Che volendo, questi potrebbero diventare i cagnolini delle LOL. Visto che non abbiamo neanche ancora trovato i pezzi. Allora. Questa è la borsina. Rimettiamolo dentro al caldino perché fa tanto freddo. Ok. Guardate che carino. Sono troppo carino. È freddo. È freddo. È freddo. Allora. Ci siamo? Mettilo qua. Insieme. Dopo. Dopo si devono spartire perché questo qua sicuramente va a Mirko. E la Morgana si tiene l'altro. La Morgana la fanno con la testa. è. Eccoli qua. Che carini. Si sono sentiti male tutti. Abbiamo trovato cani. Abbiamo trovato gatti. Abbiamo trovato principesse. Allora. Vediamo se riusciamo ad inquadrare un po' bene. Ecco. Mano della Morgana. Bene. Direi che possiamo anche salutare. Morgana, sei rimasta delusa. Volevi trovare qualcosa. Morgana ha una faccia tristissima. Cos'è successo? Non le ho trovato un altro. Volevi trovarne un altro. Eh vabbè. Ascolta. Ma di questi qua dici? Eh vabbè. Se la nonna va ancora in edicola magari che li trova te le fai prendere ancora. Poi vediamo. Le apriamo e vediamo cosa troviamo. Eh sì. Va bene. Anche dai che te sei sempre contento. Io voglio quella. Io. Eh l'erba voglio. L'erba voglio. Che c'è soltanto il giardino. Eh. Va bene. Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Che le sorprese che abbiamo trovato vi piacciono. E ci vediamo domani con un video LOL. Apertura LOL grande. Quella della mi spanca. E niente. Vi mandiamo un bacio grosso. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.